buongiorno e benvenuti all'edizione delle 13 del notiziario di prealpina.it Apriamo il nostro notiziario ancora una volta con le ultime novità sul terribile pluriumicidio di Samarate in servizio di Luca Spriano L'autopsia eseguita sabato racconta un altro agghiacciante particolare della tragedia di Samarate non solo che Alessandro Maia ha ucciso moglie e figlia a martellate con l'arma che i carabinieri mercoledì avevano repertato nella villa di Via Torino ma anche che la ragazza Giulia ha cercato di proteggersi infatti è stata rilevata una ferita da difesa sulla mano della sedicenne la giovane anche se solo per pochi istanti avrebbe dunque guardato l'orrore con i suoi occhi e capito che non era un incubo non è possibile stabilire se anche Nicolò, il figlio ferito si sia reso conto della furia assassina del papà e non è neppure certo che un giorno potrà raccontarlo il trauma cranico che i medici di Varese stanno cercando di curare è tale per cui potrebbe non avere più memoria dell'aggressione gridava e colpiva la carrozzeria delle auto in sosta questa la scena alla quale si sono trovati ad assistere i passanti lungo Viale Santuario a Saronno ieri attorno alle 17 qualcuno ha avvisato i carabinieri e sul posto è accorsa una pattuglia che ha trovato l'esagitato un 29enne in evidente stato confusionale all'arrivo le forze dell'ordine lo hanno trovato steso a terra aveva infatti perso l'equilibrio e non riusciva a rialzarsi è stata fatta arrivare anche l'ambulanza della Croce Rossa e un'auto medica i soccorritori sono rimasti sul posto per un'ora e mezza per stabilizzare le condizioni dell'uomo e per calmarlo poi è stato trasferito all'ospedale cittadino accolta in casa come un membro della famiglia e trattata come tale ma dopo 4 anni di servizio prestato come colp una badante brasiliana l'ultimo giorno di lavoro in una famiglia di Trento ha arrafato quanti più gioielli e altri beni di valore le era stato possibile e ha lasciato la casa a notte e tempo in tutto aveva fatto sparire oltre 250.000 euro in gioielli e oggetti di valore le ricerche sono scattate a livello nazionale e la badante infedele è stata bloccata dopo circa mezz'ora dalla ricezione della denuncia dagli agenti della Polaria dell'aeroporto di Malpensa biglietto in mano pronta a prendere il volo delle 13 per il Brasile con sé aveva tre valigie al cui interno sono stati rinvenuti i gioielli sottratti la donna è stata denunciata per furto aggravato Villa Augusta Varese rinasce il comune è infatti deciso di farla diventare la sede di due assessorati il servizio di Barbara Zanetti con le immagini dell'agenzia Blitz Villa Augusta rappresenta una delle ville pubbliche più belle della città con annesso un grande parco e si trova a Giubiano a due passi dall'ospedale del Ponte e vicino all'ospedale di Circolo fino a un paio d'anni fa era sede dell'ex Aspem e poi dell'ex ACSM Agam ora è chiusa la villa tornerà però a rivivere grazie a un bando e a un finanziamento comunale e anche grazie all'affidamento dei lavori per la verifica di vari impianti e per alcune operazioni propedeutiche di progettazione e ospiterà due assessorati l'assessorato ai servizi educativi e l'assessorato ai servizi sociali La catena Hilton ha aperto ieri un albergo a Solbiatolona ma sono serviti mesi e tanta pubblicità per trovare il personale necessario nonostante fossero garantiti come minimo contratti di formazione per sei mesi o per un anno Che cosa rallenta la voglia di farsi avanti? Secondo Guido della Frera presidente dell'omonimo gruppo che insieme a Hilton ha aperto l'albergo sono cambiate le priorità dei nostri giovani nella ricerca di un impiego Dopo il lockdown c'è poca voglia di accettare i sacrifici come le feste lavorate e i turni e se si riesce si preferisce fare altro E chiudiamo con lo sport La pallacanestro varese alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione Andiamo a sentire come si sta muovendo nel servizio di Luca Spriano Chi sarà il nuovo coach dell'Open Job Metis? Sembra assai probabile che l'allenatore chiamato da scola per l'anno primo del suo progetto avrà un'estrazione culturale americana più adatta alla sua mentalità Improbabile l'ipotesi mio sacchetti si va verso una soluzione straniera con l'eccezione di Riccardo Fois membro dell'attuale staff tecnico dell'Ital Basket che lavora negli Stati Uniti In realtà Fois sembra intenzionato a perseguire una carriera a stelle strisce e parrebbe improbabile che possa lasciare un promettente percorso prima Phoenix ora da Associated Coach ad Arizona per sposare l'eventuale causa dell'OGM E allora si guarda al mercato degli stranieri con trascorsi negli Stati Uniti ha un suo senso l'idea che porta a Tom Bialazewski tecnico americano dalla 2019 al 2021 assistente di Ettore Messina col quale aveva lavorato nella sua stagione all'Olimpia oggi l'ex vice dei Lakers è ancora libero non è detto che sia il nome giusto ma la ricerca sarà con ogni probabilità su quel tipo di profilo Bene, con questo è tutto l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna questa sera alle 19 buon pomeriggio